Il Brasile non ha gare ufficiali da qui ai mondiali, dobbiamo quindi giocare ogni amichevole come se i tre punti fossero un palio, come se dovessimo giocare contro il Portogallo nel mondiale. Dobbiamo sempre giocare con questa mentalità. Abbiamo affrontato l'Australia con questo piglio, con la Svizzera abbiamo fatto lo stesso, i giocatori lottano per la maglia, per entrare nel gruppo che parteciperà al mondiale e hanno ancora 5 partite a disposizione. Queste 5 partite mi serviranno per decidere chi verrà al mondiale, chi starà a casa. Ogni partita per noi è quindi molto importante, affronteremo il Portogallo con questa determinazione. Grazie a tutti.